E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi torna l'update lo so pensavate che oggi l'update saltava e invece no arriviamo anche oggi con un update ricordo sempre a tutti quanti anche quelli nuovi che purtroppo o per fortuna diciamo vediamola in entrambi i modi questa settimana non sarà in ufficio quindi qualora ci fossero un po' di problemi con l'audio un po' con le immagini purtroppo non dipende da me ma sono on the road quindi è più complesso per me appunto fare fare questo la butto lì io sono a Cervia in queste zone qua Milano Marittima quindi se siete in zona scrivetemi su Instagram nei Twitter insomma dove vedete qua sotto che se siete in giro volentieri ci beviamo una cosa insieme ma detto questo non perdiamo altro tempo e partiamo partiamo da un titolo che sembra un po' provocatorio ma in realtà non lo è poi così tanto e ho pensato poi di fare un secondo video che capirò un po' quando pubblicare se domani farlo domani o dopo domani insomma nel weekend dove voglio farvi un po' di mindset per questa situazione che credo sia molto utile un po' per farvi capire che cosa penso realmente per gli holders di lungo termine sia senso o meno certe cose però quello che voglio farvi vedere è una candela che a me non piace per nulla quella di oggi perché è una candela di estrema debolezza ora quando noi tranciamo le trendline sappiamo che non è la verità assoluta dipende un po' come andate a tracciarle quanti punti di contatto andate a prendere a pescare però diciamo che io non le ho modificate ho tenuto quella tracciata in quest'ottica qua e sul grafico daily capiamo molto bene che ci troviamo a un retest bearish in questa fase qua se la candela di oggi dovesse concludersi così e dovesse confermare appunto il test appunto dei 23 587 proprio millimetrico dove i bears stanno tenendo il controllo ok cercano di rompere questa falling wedge scusatemi questa rising wedge che ha un target poi ribassista che potrebbe riportarci in queste zone qua addirittura ok nelle zone dei 20.000 dei 19.000 ritestare queste zone qua ora sembra un po' al di là di quella che l'analisi però sapete come sono io cerco sempre di non darvi l'oppio diciamo del bullish anche se io tendenzialmente resto bullish nel lungo termine ma nel breve cerco sempre di essere razionale e quello che è la figura che si stanno a formare è una figura che non promette benissimo poi è chiaro che bitcoin ci ha abituato ad avere delle spinte importanti essere molto emotivo ma già su twitter avevo fatto notare la divergenza che stavamo avendo tra i volumi a ribasso e un prezzo in salita e questo appunto testimoniava poca convinzione da parte dei bull nel riportare il prezzo in queste aree e queste aree che ho evidenzato con questo box rosso sono state delle resistenze molto importanti per il prezzo i 25.000 dollari più precisamente lo vediamo anche a livello orario dove effettivamente non abbiamo avuto conferma dei bull nel mantenimento di certi livelli proviamo a recuperarlo ma poi veniamo respinti qua abbiamo avuto dei volumi anomali diciamo ma secondo me legati all'exchange di per sé anche perché non c'è stata grande movimentazione del prezzo alle ore 17 ma vedete poi come i bears cercano di rispedirci insomma al mittente e ci stanno trascinando al di sotto della nostra trendline che ci sta portando avanti da parecchio tempo quindi estrema cautela le altcoin in realtà stanno continuando invece a performare abbastanza bene stanno mantenendo abbastanza bene motivo la dominance molto scarica 40 83 perso completamente questo supporto pure con con un gap se vogliamo e stiamo puntando dritti 39 5 è un altro 1,3 per cento in play attenzione attenzione anche qua perché sì il play al coin può essere interessante soprattutto su quelle un po' più in fomo come esempio ethereum che banalmente io avevo parlato di un potenziale bull flag che poteva andare a formare lo può ancora fare sì assolutamente sì se però appunto veniamo rispettate certe condizioni anche da parte bitcoin e soprattutto delle condizioni legate anche un po' di fomo per il merge dopo il merge ci potrà essere un dump assolutamente sì spesso questi eventi seguono un buy the rumor non sell the news banalmente quella che è stata anche una strategia che abbiamo adottato precedentemente anche con iosd di cui ho parlato nei giorni precedenti però appunto questa è la visione di insieme ci sono al coin vi dicevo che stanno performando meglio altre peggio rimango sempre abbastanza dubbioso nel senso che in termini rischio rendimento finché non abbiamo una convinzione da parte di bitcoin nella move a rialzo rimango sempre un pochino cauto soprattutto per la correlazione che abbiamo con una dominance che tende a scendere in maniera importante e con un grafico come vedete qua e tiro un btc che conferma forza quindi si conferma forza ma attenzione al comportamento di bitcoin davvero cerco sempre di essere molto obiettivo su questo quindi preferisco missare un eventuale gain ma non prendermi un rischio elevato e questo nel lungo termine ve lo ricordo e spero che per chi mi segue da ormai mesi anche in burran abbiamo sempre parlato di come prendere il profitto abbiamo sempre parlato di prendere il profitto all the way up all the way down quando si sale quando si scende bisogna saper chiudere le posizioni e costruirle se non siete holders se siete traders se siete holders chiaramente le logiche sono diverse e faremo un video dedicato perché anche io ovviamente sono un principale holders su una parte di lungo termine e faccio delle logiche diverse da quelle che vi applico nella parte trading ok rimane molto forte S&P 500 abbiamo trovato un top temporaneo a 4.324 siamo andati in correzione però attenzione anche a lui perché potenzialmente può andare a costruire una bull flag stessa cosa vale per Nasdaq quindi anche qua staremo a vedere con quelle che saranno le previsioni della Fed io ragazzi non voglio andare oltre perché appunto è giovedì sera quindi sarete anche in vacanza non voglio tediarvi troppo però spero davvero che questi update anche abbastanza concisi possano esservi d'aiuto io lo faccio volentieri per voi se vi fanno piacere ricordo sempre ricordatevi un bel like di supporto al canale commentatemi perché mi fa piacere leggervi tutti e capire anche voi cosa ne pensate riguardo e detto ciò iscrivetevi quando ora appunto siate nuovi del canale ragazzi mi fermo vi auguro intanto a tutti una buona serata ciao ragazzi